Il campo dei partenti vede con il numero 1 Taxi Griff Italia, con il 3 Top Quark, con il 4 Tiller US, con il 5 Tebbe Laser, con il 6 Tank Veritas SM, con il 7 Tiffany R. Tutto questo dopo il ritiro del numero 2 Tebbe del Ronco, tutti e 6, ovviamente in prima fila, i partecipanti alla prima corsa del convegno odierno, che vengono ora chiamati a raccolta dallo starter. 200 metri allo stacco della macchina con Tebbe Laser numero 5 che ha abbandonato l'allineamento ripiegando in coda, parte piano Top Quark, parte con cautela anche Tiffany R, e vediamo che nel lancio prova ad emergere all'esterno Tank Veritas SM, rientra però lungo la corda Taxi Griff Italia, si accoda, secondo in corda Tiller US, a precedere Tiffany R, sono rimasti molto più indietro Top Quark e Tebbe Laser. Con Tank Veritas SM che insiste all'attacco di Taxi Griff Italia, quando siamo al completamento della prima curva, insiste Tank Veritas SM che cerca di sopravanzare Taxi Griff Italia, il quarto di avvio, va via in 29.4, insiste Tank Veritas SM, dopo mezzo giro riesce a passare di forza su Taxi Griff Italia, quindi Tiller US e Tiffany R. 600 iniziali in 44.4 per il battistrada, Tank Veritas SM che ora cerca di ridurre l'andatura dopo lo strappo che le ha consentito di passare a condurre su Taxi Griff Italia, muove all'esterno Tiller US che al paletto di metà gara cerca di avvicinare la battistrada, un minuto e tre decimi per il mezzo miglio iniziale, si viaggia sul piede dell'1.15 appena abbondante, con Tiller US che va a impegnare Tank Veritas SM, ha spostato anche Tiffany R, mentre il chilometro va via in 1.15.2. Si va forte per la categoria, con Tiller US che preme su Tank Veritas SM, Taxi Griff Italia che sembra in difficoltà, scavalcato da Tiffany R, che segue nell'azione Tiller US, 6.200 metri in 1.30 appena abbondante, con Tiller US che intensifica la pressione su Tank Veritas SM, avendo in scia Tiffany R e poi Taxi Griff Italia, ha la corda Tank Veritas SM, all'esterno Tiller US, Tiffany R che attende per produrre lo spunto, mentre Tiller US intensifica la pressione su Tank Veritas SM, passa di forza Tiller US su Tank Veritas SM, non è particolarmente incisiva Tiffany R nel finale, vince Tiller US nei confronti Tank Veritas SM con Tiffany R al terzo posto, e dunque 4.67, l'arrivo naturalmente ufficioso per quanto riguarda la prima di Capanelle, il finale in rallentamento, 2.1.5 sul mio cronometro, media di 1.15.9 per Tiller US, con l'allievo Prisco, il numero 4, al primo posto sul tabellone nei confronti del 6, Tank Veritas SM e del 7, Tiffany R, rivediamo il sorpasso vincente di Tiller US numero 4, nei confronti di Tank Veritas SM e Tiffany R, 4.67, l'arrivo ufficioso della prima di Capanelle. Grazie a tutti.